Lui è Antonino Zito, 32 anni, di Palermo, Frutti Vendolo. È stato ucciso lo scorso 18 dicembre 2012. Loro sono Pietro Mazzara e Maurizio Pirrotta e sono indagati dell'omicidio bagnato con il vino. Infatti, Antonino Zito sarebbe stato vittima del cosiddetto teatro del Tocco. È un gioco tipico delle taverne siciliane. Un tavolo, le sedie, una bottiglia di vino e un gruppo di amici. Uno è il rivale e contro di lui vi sono conti da regolare. Il Tocco di vino è un tribunale sommario. Si uccide una persona durante il Tocco di vino per vendicare pubblicamente un suo sgarro. E così sarebbe stato a Palermo, in un chiosco di vivite nel rione Bonagia, inteso Dallas, crocevia della droga, dove Antonino Zito è stato ucciso non al culmine di una discussione degenerata a causa dell'alcol. Il delitto sarebbe stato premeditato. E lui è stato invitato a partecipare all'Attocco di vino perché tutti sapessero che avrebbe pagato con la vita i suoi errori. Ecco perché la Procura di Palermo è intenzionata a contestare, ammazzare Pirrotta, la premeditazione dell'omicidio, che dunque non ne sarebbe stato d'impeto. E i magistrati hanno prodotto una pubblicazione dell'Università di Lecce, un trattato intitolato Le parole delle cose, simboli e riti sociali in Sicilia, dove è spiegato il Tocco del vino alla siciliana. Antonino Zito è stato assassinato con un colpo di pistola alla testa. Il cadavere fu scoperto, bruciato a Santa Flavia, in Contrada Spedalotto Valdina. Il corpo fu trasportato all'obitorio delle Policlinico e la moglie di Zito, Rosa Anaclio, si avvicinò a Pietro Mazzara e gli gridò «Ve lo siete venduti a mio marito!» Lei lo ha schiaffeggiato e gli ha gridato ancora «Perché non lo dici che sei stato tu l'ultimo a vedere mio marito?» I familiari hanno sospettato subito di Mazzara e ciò perché il Tocco di vino è una vendetta in pubblico e quindi i parenti hanno saputo. Ecco la tesi della Procura palermitana che indaga sulla morte violenta di Antonino Zito. Il movente, invece, è ancora oscuro.